Assessore, qualche tempo fa sul Calabria 7 il nostro direttore ha fatto un articolo in relazione alle condizioni del piazza Castelfidardo, una zona dell'Aranceto in cui c'è questo palazzo fatiscente. I cittadini sono disperati. Possiamo dare delle risposte a questi cittadini? Il Comune ha già preso in considerazione questa situazione? Certamente, il Comune ha già preso in considerazione questa situazione appena ci è stata segnalata, appena siamo venuti a conoscenza. È una problematica che riguarda vari settori che stiamo cercando di coordinare per intervenire il più presto possibile. I cittadini, come detto, sono disperati. Ci hanno contattato perché non riescono più a vivere in queste condizioni. Come lei già parlando prima mi diceva se è più facile rilevare problemi che poi andare lì a risolverli. Vogliamo comunque prendere un impegno con queste persone che purtroppo vivono in una situazione di disagio. Dare delle tempistiche che lei, non so se lei se la può sentire, di prendere un impegno. Sicuramente di prendere l'impegno, di affrontare il problema e di risolverlo, sicuramente mi sento di prenderlo al nome di tutta l'amministrazione. Per quanto riguarda la tempistica, non essendo un'attività di diretta competenza mia, non mi sento di prendere dei tempi, di dare dei tempi alla città che poi potrebbero non essere rispettati per dei motivi che io non conosco. Quindi prendiamo l'impegno ma non sappiamo però... La tempistica è una cosa che non riguarda il mio settore, sono interventi di tipo strutturale, di lavori pubblici dove naturalmente le mie competenze sono limitate, io ho più le problematiche ambientali. Ok, va bene, grazie. Grazie.